Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un libro che oserei dire molto 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 interessante. Un libro scritto da Pierpaolo Barbieri e intitolato L'impero ombra di Hitler, La guerra civile spagnola e l'egemonia economica nazista. Un libro estremamente interessante che lo storico Niall Ferguson definisce come un'opera brillante che ridefinisce l'intervento della Germania nazista e dell'Italia fascista nella guerra civile spagnola, con un orecchio attento agli echi che ancora oggi risuonano in Spagna e in Europa. Pierpaolo Barbieri è argentino di origine italiana e ha ottenuto un dottorato in storia economica e sociale al Trinity College di Cambridge, direttore esecutivo di Green Mantle, società di consulenza e analisi macroeconomica e geopolitica, consulente presso l'Institute for New Economic Thinking e il Berggruen Institute of Governance. Insomma, un economista, un esperto in storia economica che ci racconta le vicende economiche della guerra di Spagna. Barbieri in quest'opera ci spiega alcune cose. Tenete presente che, come ci dice l'introduzione, la guerra civile spagnola 36-39 è stata spesso considerata la sanguinosa prova generale della seconda guerra mondiale. I nazionalisti di Francisco Franco, insorti contro il governo repubblicano del fronte popolare, vinsero grazie all'assistenza militare fornita dalla Germania nazista e dall'Italia fascista. Un chiaro esempio, sembrò, della comune lotta al bolshevismo internazionale, condotta da regimi politicamente e ideologicamente affini. Ma Pierpaolo Barbieri ribalta questa interpretazione dell'intervento delle forze dell'asse, sostenendo che furono ben altri i motivi che spinsero il fuhrer nella penisola iberica. Decisi a esercitare l'egemonia economica sull'Europa, i tedeschi volevano sperimentare in Spagna, paese ricco delle materie prime di cui avevano assoluta necessità, le tecniche di sfruttamento da utilizzare nelle future colonie. La Spagna come banco di prova non solo delle dottrine belliche ma anche delle dottrine coloniali. Il Terzo Reich offrì quindi alle truppe franchiste aerei, carri armati e uomini con il segreto obiettivo di assoggettare gradualmente il paese in una sorta di impero informale e di impadronirsi delle sue risorse minerarie per alimentare la propria industria bellica. L'attuazione di questo piano fu in gran parte resa possibile dall'opera di Jelmar Schacht, ministro delle finanze, direttore della Reichsbank, le cui politiche di riarmo, di disinvolta gestione del debito, di promozione dell'export e controllo assoluto dello Stato sull'economia furono alla base della rinascita della Germania fra le due guerre e del consolidamento del regime nazista. Anche se la sua strategia finanziaria fu alla fine abbandonata in favore di una concezione dell'impero basata sul principio della razza, Barbieri sostiene che quella di Schacht era per molti versi un'opzione più efficace a disposizione di Hitler, uno strumento in grado di garantire comunque risultati assai più duraturi di quelli effettivamente conseguiti dalla macchina genocida del Terzo Reich. Ricco di spunti di riflessione inediti e documentatissimo, l'impero ombra di Hitler ricostruisce in dettaglio la genesi e la natura del progetto imperiale nazista e nel contempo aggiunge nuovi tasselli alla storia della guerra civile spagnola, una tragedia in cui anche l'Italia fascista svolse un ruolo non secondario investendo uomini e mezzi senza avere, a differenza della Germania, alcun tornaconto né di breve né di lungo termine. Allora, il libro di Barbieri è interessante perché ci spiega una cosa decisamente poco conosciuta, secondo me, della guerra di Spagna, ovvero sia la politica economica estera, diciamo così, della Germania nazista, della Germania di Hitler. L'aggressività politica, l'aggressività militare, l'aggressività economica della Germania. La Spagna nazionalista franco che per tutta, quasi tutta la durata della guerra, viene tra virgolette assoggettato o comunque sia reso molto, come dire, dipendente, molto legato alla Germania nazista. Allora, come ben sapete, come ho detto nei video in cui ho parlato della guerra di Spagna, ho, come dire, detto molto spesso che per l'Italia di Mussolini, per l'Italia fascista, l'avventura in Spagna si rivelò un pozzo senza fondo, forse peggiore anche della campagna d'Etiopia, che prosciugò letteralmente le risorse del paese devastando la nostra economia. Sì, la parola esatta che descrive le conseguenze della campagna di Spagna e della campagna d'Etiopia sull'economia italiana può essere riassunta con una sola parola, devastazione. Perché quelle due imprese devastarono, distrussero praticamente la nostra economia, ci isolarono a livello internazionale, ci legarono ancora di più mani e piedi al carro della Germania nazista e quello che è peggio, l'Italia non fu mai in grado di sfruttare i propri successi in Spagna e in Etiopia. Il libro di Barbieri ci parla di quello che accade in Spagna, cioè ci parla di come nonostante lo spaventoso impiego di uomini, di mezzi, di... sì, insomma, uomini, mezzi, sforzi economici di sostegno a... come dire, di sostegno a Franco, eccetera, 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 l'Italia non riuscì, come dire, mai a ottenere una, diciamo, sorta di compensazione. Diciamo così, i soldi, le risorse, i materiali, gli uomini che l'Italia buttò nella guerra civile spagnola andarono persi. Furono cose fatte a fondo perduto senza praticamente alcuna... senza praticamente alcuna... alcun riscontro, cioè praticamente l'Italia dalla guerra di Spagna non ebbe alcun tornaconto, non ebbe alcun riscontro perché i tedeschi molto più abili di noi riuscirono a, come dire, scardinare il meccanismo a esautorare gli italiani troppo impegnati, come dire, a fare guerra e a, come dire, incunearsi nei meccanismi dell'economia spagnola molto meglio di noi. Il risultato è che la Spagna, fino a una buona metà della seconda guerra mondiale, si rivelò, come dire, praticamente l'unica fonte per molte materie prime, per generi alimentari, per armi, insomma, come dire, armi... ricordiamoci che in Spagna ci sono, soprattutto nei paesi baschi, ci sono importanti fabbriche d'armi, fabbriche d'armi che fabbricarono armi e munizioni per la Germania, le miniere spagnole producevano per la Germania, le aziende agricole spagnole producevano per la Germania, ok? Mentre l'Italia, ahimè, rimase ferma al palo. E la figura di Hjalmar Schacht, in questo libro di Pierpaolo Barbieri, nesce fuori come quella di un uomo spregiudicato, intelligente, di un tecnocrate assolutamente amorale e disposto a tutto pur di mettere in pratica le proprie teorie. Schacht, ricordiamocelo, è l'uomo che si inventò i cosiddetti MEFO, che prima o poi ne parlerò, praticamente i titoli di Stato fittizi che finanziarono il riarmo della Germania. Se gli industriali fossero passati all'incasso dei MEFO, l'economia tedesca sarebbe collassata su se stessa. Barbieri ce lo spiega anche in questo libro. Ma mettiamola così. Praticamente l'Italia nella guerra di Spagna, come ho detto, rimase al palo. Avevamo buttato un sacco di soldi, aerei, carri armati, cannoni, uomini, soldi nella guerra di Spagna. Ma a godere i vantaggi economici dello sfruttamento delle risorse spagnole non fummo noi che praticamente buttammo i soldi a fondo perduto. Fu Hitler. Hitler che tramite la genialità, l'intelligenza dei sistemi di Schlacht riuscì a controllare almeno fino a tutto il 1942 e buona parte del 1943 l'economia spagnola che lavorò praticamente a pieno ritmo per il terzo Reich. Ripeto, il libro di Barbieri è un'opera interessante e qui ho veramente bisogno di voi. Che cosa ne pensate di questa teoria? Cioè che cosa ne pensate di questa lettura che il ricercatore argentino fa della guerra di Spagna? Cioè che in pratica la Spagna Germania fu, tra virgolette, il primo esperimento coloniale tedesco prima dello scoppio della seconda guerra mondiale. Il controllo delle risorse, il controllo dell'economia nazionale, il controllo sulla classe politica e dirigente del paese che la Germania aveva contribuito con, diciamo, grande successo a mettere al potere. Barbieri, ripeto, ce ne parla. Il libro è interessante, fornisce alcune chiavi di lettura inconsuete che vanno valutate molto bene e qui chiedo aiuto a voi, signori. Cosa ne pensate? Cioè, cosa ne pensate delle teorie esposte in questo libro? Ripeto, a me, io le trovo intriganti e interessanti e da valutare con molta attenzione. Il sottoscritto in economia è una capra assoluta, ok? Però le valutazioni di Barbieri a occhio non mi sembrano campate in aria. Quindi, cari signori, se volete avere un'idea dei sistemi con cui la Germania egemonizzò l'economia spagnola esautorando l'Italia fascista da ogni qualsiasi forma di controllo e di sfruttamento, ok, delle risorse spagnole, questo libro ce lo spiega. Ripeto, le teorie di Barbieri, per me che sono una totale capra in economia, mi sembrano comunque sia molto interessanti e da valutare con estrema attenzione. Non mi sembrano campate in aria, ma qui ho veramente bisogno del vostro aiuto. Quindi, cari signori, commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, valutiamo con attenzione questo libro e le sue teorie e ci sarà, penso, da divertirsi parecchio. Quindi, cari signori, come sempre, commentate qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, come sempre, arrivederci alla prossima puntata e soprattutto, ciao!